Il silenzio dell'ascolto è questo il titolo scelto per il convegno che sigillerà la conclusione del percorso formativo nell'ambito della metodologia dei gruppi di autoaiuto del progetto Il Volontariato Competente. Un percorso portato avanti dall'Associazione Diabetici Aretini e dall'Associazione Emodializzati. Due patologie importanti che riguardano un'elevata quantità di cittadini. Il diabete, che riguarda il 6,5-6,7% della popolazione, che è un numero che solo pochi anni fa era inimmaginabile purtroppo, e l'insufficienza renale cronica, che mettendoci dentro anche i casi minori, riguarda il 7% della popolazione. Quindi su questo le forze dell'organizzazione, i modelli che stiamo attuando di presa in carico da parte del medico di famiglia, ma di collegamento con lo specialista, nefrologo, diabetologo, eccetera, devono essere supportati da un'attività anche quotidiana. In questo abbiamo trovato nelle associazioni del volontariato, quelli per i nefropatici, quelli per i diabetici, un'alleanza fantastica che neanche è immaginabile nel resto d'Italia, lo voglio dire. Negli ospedali si può stare sempre di meno, perciò 3-4 giorni massimo, poi dopo c'è l'uscita. Questo percorso assistito che si ha ritornando il paziente a casa, spesso è difficoltoso e di solitudine. Invece questo autoaiuto, questi corsi così, possono aiutare sicuramente il paziente, prima di tutto attraverso anche i social, ad avere amici in comune con la stessa patologia e altre cose. e soprattutto la comprensione che avviene tra gli elementi sociosanitari e i pazienti. Il convegno si svolgerà sabato prossimo, 10 settembre, dalle ore 9 presso l'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo.